Chiamo al tavolo Sabina Burrascano, un attimo che mi sposto perché ti do la mia di postazione, la disinfetto e un attimo che faccio il tutto. Intanto l'avvio, disinfetto e cambio postazione. Allora, un attimo che sposto anche lo schermo in maniera... Eccolo. Allora, perfetto. Prima ti volevo presentare. Questo cambio... Allora, un attimo che ti presento. Io mi sono scritto due cose su di te, però poi magari le incrementiamo. Allora, tolgo la mascherina perché ovviamente mi sentite poi meglio con il microfono. Allora, ricercatrice nel campo della geopotanica e dinamica della vegetazione e docente del corso di conservazione delle risorse forestali presso l'Università La Sapienza. Questa è una cosa di cosa fai tu attualmente, ma tu fai tantissime cose di ricerca, impegnato in tantissimi progetti e percorsi di ricerca nel campo appunto della dinamica della vegetazione e poi ci spiegherà comunque alcune cose meglio e poi soprattutto è una grande amica dei Monti Prenestini perché ovviamente lei è una ricercatrice e porta tanti ragazzi dell'università qui perché mi sembra che hai fatto... Da qui sei partita anche, da una tesi sui Monti Prenestini perché io ho conosciuto il professor Blasi e da lì dal professor Blasi poi ho conosciuto Sabina e dal dipartimento di botanica dell'Università della Sapienza perché ovviamente io vengo da lì, dalla Sapienza, quindi conoscevo il professor Blasi e da lì invece il dipartimento di cui fa parte appunto anche Sabina Burrascano. E in questo caso però la volevo ringraziare perché lei è partita da qui, dai Monti Prenestini e le sue ricerche, però poi nel tempo i Monti Prenestini sono rimasti nel cuore perché ovviamente ogni anno porta il suo corso di laurea qui quindi gli studenti dell'università fanno pratica e agiscono anche sui Monti Prenestini anche in altre zone, però qui comunque ce li porta sempre, vero? Quindi io la volevo ringraziare proprio per quello che fa e per quello che fa con i ragazzi e l'anno scorso per esempio c'è stato anche un ragazzo che si è laureato con una tesi su appunto il Castagneto, diciamo, all'interno di un percorso di valorizzazione diciamo di percorsi turistici, poi ce lo spiegherai un po' meglio ma ovviamente all'interno di questi percorsi di valore di territorio ovviamente non potevano mancare il Castagneto Prenestino che per questo io la ringrazio e che è Daniele Caputo, il ragazzo che si è laureato e quindi io poi ti lascio la parola così ci spiegherai bene questa tua presentazione grazie grazie sì insomma sono molto affezionata al territorio e porto i ragazzi non solo di conservazione delle risorse forestali ma anche di un corso di laurea che si chiama gestione e valorizzazione del territorio proprio perché ho colto anche prima diciamo del premio che avete ricevuto l'esemplarità del luogo e del lavoro che state facendo in particolare io poi come interessi di ricerca ho proprio lo studio della biodiversità degli ecosistemi gestiti dall'uomo quindi pascoli e boschi sostanzialmente quindi il Castagneto rientra sicuramente nei miei interessi diciamo la mia presentazione vuole porre un po' la storia del Castagneto in una scala spaziale e temporale più ampia perché penso che quello che state facendo qui ha un valore anche alla scala europea quanto meno quindi diciamo in tutte le regioni montuose sud europee come in Italia i castagneti da frutto hanno rappresentato una componente chiave dell'eredità economica, culturale ed ecologica dall'inizio del Medioevo influenzavano proprio la vita delle persone e l'ambiente e per questo si parla proprio dei mille anni della civiltà del Castagno quindi su una scala temporale molto lunga recentemente abbiamo visto il declino di questa civiltà del Castagno prima di tutto per un motivo climatico cioè già nel Settecento con quella che si chiama la piccola età glaciale cioè delle variazioni nella attività solare che hanno determinato un raffreddamento del clima molte culture tra cui i castagneti sono diciamo entrati in crisi ma poi sostanzialmente lo sappiamo tutti con la fine della seconda guerra mondiale lo spopolamento delle montagne l'urbanizzazione molti dei castagneti sono stati abbandonati in questo grafico che è preso da un libro che apprezzo molto e che dedica un intero capitolo al Castagneto che si chiama La storia del bosco si vede quello che è successo in uno dei comuni appennini cioè come con il decremento della popolazione diminuisse sostanzialmente anche la superficie del Castagneto e poi arriviamo ai patogeni che già dall'Ottocento vari tipi di patogeni poi avete parlato del cinipide ma quella storia dei patogeni del castagno ovviamente è più lunga si è arrivati alla situazione che quantificata fa abbastanza paura cioè in Italia dall'inizio del Novecento ad oggi sono stati abbandonati circa il 90% dei castagneti da frutto e questo non è solo in Italia quest'altro grafico che vedete qui è per la Francia qui tutte le sbarre diagonali rappresentano una riduzione dell'intensità della gestione mentre le crocette l'abbandono in vari siti appunto di castagneti da frutto in Francia quindi questa è la realtà che è presente quindi non solo qui ma a una scala molto molto più ampia e quindi il castagneto e i castagneti da frutto in particolare sono identificati dalle convenzioni internazionali come un valore un valore prima di tutto per la biodiversità perché la direttiva europea Habitat riconosce appunto l'habitat che citava prima Rosaria di un castagneto da frutto con sottobosco seminaturale e poi c'è anche la Convenzione UNESCO del patrimonio mondiale culturale e naturale che sicuramente include questo tipo di esperienze però quello di cui voglio parlare io sono anche questioni biologiche più specifiche legate alle ragioni della biodiversità dei boschi quindi le foreste ospitano circa i tre quarti degli organismi viventi a livello globale quindi sono ovviamente uno degli habitat sotto i riflettori al momento sia appunto per il ruolo nella conservazione della biodiversità ma anche per il ruolo nel cambiamento climatico ma da cosa dipende la biodiversità che troviamo in una foresta? Prima di tutto dalla struttura della foresta cioè da la disposizione spaziale degli alberi sia in senso orizzontale che in senso verticale a seconda di come sono disposti gli alberi avremo una diversa quantità e distribuzione delle risorse a partire dalla luce ma anche le risorse del suolo, l'acqua quindi le diverse strutture possono determinare condizioni molto diverse di luminosità e questo influenza sicuramente la diversità delle piante tutti gli organismi fotosintetici, le piante, i licheni ma la struttura verticale anche degli alberi come crescono, come invecchiano, come muoiono determina la presenza di una serie di nicchie ecologiche piccoli habitat che sono importantissimi per numerosi organismi di diverso tipo ultimamente questi vengono studiati come microhabitat arborei sono tantissime le pubblicazioni scientifiche negli ultimi anni su questo tema e in particolare si è notato appunto che tenendo conto dei microhabitat che sono presenti all'interno dell'albero è come se fossimo in grado di dare un valore ecologico a quell'albero oltre che un valore economico questi possono essere cavità, presenza di funghi, di licheni, epifiti escrescenze e addirittura in uno dei progetti europei a scala più ampia direi sulla gestione forestale sostenibile sono stati creati dei software che appunto nelle aree di training permettono agli studenti che diventeranno i professionisti forestali domani di selezionare gli alberi in base al loro valore ecologico ed economico e vi parlo di microhabitat perché questi appunto sono più che abbondanti nel castagneto prenestino qua hanno riportati solo alcuni quindi cavità di picchio, cavità basali e questa foto che purtroppo è un po' scura che rappresenta un lichene di cui parleremo più avanti che si chiama la lobaria pulmonaria che è molto abbondante nei castagneti da frutto in generale e in particolare nel castagneto prenestino un'altra questione relativa alla diversità forestale è quello che menzionava prima Rosaria cioè la dinamica della vegetazione il fatto che orizzontalmente ci sia un mosaico di situazioni in diverse fasi dinamiche permette un aumento esponenziale della diversità di piante ma non solo questo è quello che in realtà riconosciamo nelle foreste più naturali cioè le foreste dove si ha un evento di disturbo poi la foresta mano a mano giovane cresce cambia anche composizione gli alberi invecchiano si creano delle radure e quindi questo mosaico che avviene nel tempo si riflette anche nello spazio e questo è un po' quello che troviamo anche nel castagneto con aree più aperte zone occupate da specie arbore pioniere come i pioppi o arbustive zone di bosco più giovane e zone con alberi monumentali quindi troviamo effettivamente nell'area del castagneto questo mosaico che è così raro trovare nei boschi gestiti per la produzione di legname ed è raro perché perché si tende a costruire lente nella colonizzazione che hanno bisogno di tempi lunghi indisturbati per poter arrivare e la lobaria pulmonare a questo lichene è proprio una di queste specie un indicatore utilizzato a scala europea per i boschi ad elevata continuità ecologica con alberi grandi proprio perché è un lichene foglioso che si riproduce molto spesso vegetativamente con lo spostamento di queste grossi talli grosse foglie detto questo vi presento un caso studio che secondo me è abbastanza potrebbe essere abbastanza simile a quello del vostro castagneto è uno studio che è stato svolto dai colleghi di Bologna nell'appennino bolognese appunto che è partito proprio da quello che voi già state facendo quindi da una mappatura delle particelle catastali gestite e non gestite in un'area interessata da castanicoltura dove sono stati raccolti sia i dati di cui ha parlato Rosaria quindi i dati per albero quindi sulla salute dell'albero segni di patogeni ma anche presenza di cavità, marciuvi diciamo a grandi linee e un po' i microabitati di cui ho parlato ma poi si è andati un po' più avanti quindi si è rilevata la presenza di questo lichene e l'abbondanza ovviamente sui singoli alberi e poi si è rilevata anche la composizione specifica delle piante vascolari che cosa hanno trovato i colleghi? in realtà i patogeni erano poco presenti con virulenza attenuata laddove presenti e in maniera abbastanza omogenea tra le aree abbandonate e gestite questo è proprio un confronto binario tra aree abbandonate e aree gestite in entrambe le aree ma soprattutto nelle aree abbandonate c'era un rischio di crollo quindi c'erano situazioni probabilmente da sottoporre ovviamente a quotatura quindi anche una più elevata una elevata generale in tutti e due tipi di area presenza di microabidi a tarborei il lichene l'obaria pulmonaria era più presente nei castagneti gestiti questo perché questo lichene ha bisogno sia di alberi grandi che appunto hanno una continuità temporale ma anche di luce che viene mantenuta nei castagneti gestiti attraverso appunto lo sfalcio o il pascolo e anche la ricchezza diciamo di piante vascolari del sottobosco era maggiore nei castagneti gestiti rispetto a quelli abbandonati lo studio si conclude con delle diciamo indicazioni gestionali che valorizzano la gestione estensiva di questi ecosistemi valorizza appunto pratiche di sfalcio di pascolo di potature per quanto diciamo auspichi il mantenimento di microhabitat arborei sugli alberi e la limitazione dell'uso del fuoco per gli effetti negativi che può avere sul suolo quindi anche in generale si si sottolinea e anche dal resto della letteratura che scientifica che ho avuto l'opportunità di leggere il valore di eredità culturale di di questa interazione tra uomo e natura che poi è anche quello che rende unici gli habitat e gli ecosistemi europei anche rispetto ad altri continenti con questo ho concluso e vi ringrazio per per l'attenzione grazie mi hanno colpito un paio di passaggi l'uno è il 90% di abbandono quindi un numero fa paura veramente e poi ovviamente mi viene in mente comunque la necessità di caratterizzare maggiormente l'area cioè mappare di identificare queste aree dove è possibile appunto per esempio nei castagneti laddove è gestito ovviamente ci sono attività di potatura e invece nelle parti dove si è avviato già una successione o un qualche cosa che è detto fino adesso ovviamente definire quelle aree e capire ovviamente quelle non possono essere rimesse in produzione o comunque una parte quindi per esempio in un castagneto tipo il nostro che ha tutta una storia ovviamente di abbandono sarebbe interessante e utile capire le diverse fasce caratterizzarle penso io che il lavoro di mappatura che sta facendo è fondamentale per poi trovare quali sono le diverse situazioni presenti andarle a confrontare e capire che cosa si vuole ottenere poi dalle singole particelle e dal complesso in termini di pianificazione assolutamente perché in una parte si può riottenere il prodotto e quindi il prodotto mosciarella dall'altra invece ha un suo utilità e ovviamente da lì partono tutta una serie di percorsi ricerche e avvicinamento per esempio su tutto quello che è l'impronta di biodiversità collegata valore ecosistemico e tutto quello che ne comporta e ovviamente anche questa ha una grande potenzialità del castagneto stesso perché è multifunzionale in questo caso quindi è un ambiente dove si possono fare tantissime cose diverse e che può avere da lì sostegno anche all'economia locale perché servizi aggiunti perché ovviamente ci possono esserci delle persone anche il museo che organizza dei percorsi oppure le università che possono svolgere dei campi di ricerca e quindi valutare perché lì ci sono delle cose in atto o le cose che sono già successe di successione vegetazionale e quindi può essere un campo di studio è un campo di laboratorio è una buona pratica da portare in altri castagneti e quindi da lì definire cioè se uno ha quel tipo di castagneto cosa ci posso fare e valutarlo anche a diverse latitudini in questo caso sì sì infatti era mia intenzione contattare anche i colleghi che conosco e piacerebbe pure applicare io ti butto un'idea nel senso che qui ci sono diversi castanicoltori noi siamo abbiamo una rete di castanicoltori che abbraccia veramente tutto l'appennino e quindi arriva fino qui ci sono alcuni amici che vengono dalla Calabria piuttosto che dal Piemonte e quindi e anche università e poi anche l'aiuto dei galli in questo caso che ci consentono anche delle relazioni con le istituzioni locali e anche noi come museo abbiamo la nostra rete quindi rafforzando questa collaborazione tra università GAL quindi enti di ricerca enti territoriali e in realtà castanicole locali possono ecco avviare veramente un qualcosa di importante per la ripresa oppure la valutazione di servizi connessi ecosistemici collegati assolutamente grazie 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 grazie